Consolidare il patto federativo tra Realtà Italia e Centro Democratico per incidere anche in Basilicata con più forza sulle scelte di governo. Per Paolo Galante è l'obiettivo della nuova fase che si è aperta. Avendo già fatto un patto federativo con Centro Democratico, questo patto federativo trova il giusto riscontro anche in regione Basilicata e vede i due consiglieri regionali espressi dai due partiti iniziare un percorso che li vedrà in un gruppo unico nel più breve tempo possibile. E' la politica che riprende a grandi falcate una marcia verso la soluzione dei problemi della Basilicata. Per il capogruppo in Consiglio regionale di Realtà Italia, Galante, occorre portare a casa il risultato. E' chiaro che qualunque ragionamento anche con gli alleati di centrosinistra prende le mosse da una rivisitazione programmatica per questo quadriennio e dobbiamo mettere a punto una serie di cose dove io e il consigliere Benedetto già ci siamo abbondantemente ritrovati e cominciarne a discutere anche con gli alleati.